Musica Emergenza sanitaria, infermieri contro l'aslo oristanese Covid-19, lo screening di massa comincia a Natale Le piogge hanno reso l'acqua non potabile in due comuni dell'oristanese Arriva il bonus idrico integrativo Benvenuti, sono 25.279 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale sono stati rilevati 248 nuovi casi Si registrano anche 7 decessi, 556 in tutto In totale sono stati eseguiti 409.587 tamponi con un incremento di 4.163 Le persone in isolamento domiciliare sono 14.321 Sul territorio provinciale di Oristano si registrano 15 nuovi casi A Oristano si registrano 6 contagi e 17 guarigioni E ora una breve di cronaca Oggi in tarda mandinata una squadra dei vigili del fuoco d'Oristano è intervenuta sulla strada provinciale 67 nei presi di Simagis per un incidente stradale che ha interessato un mezzo fuoristrada Il conducente è stato estratto dal veicolo e consegnato al personale del servizio 118 Successivamente è stato trasportato con l'elisoccorso del servizio regionale presso l'ospedale di San Gavino E torniamo a parlare dell'emergenza sanitaria Stato di agitazione degli infermieri e operatori sociosanitari che chiedono le dimissioni della direttrice dell'ASL oristanese Valentina Marras Vediamo Dimissioni della direttrice dell'ASL Valentina Marras e dei vertici della sanità Questa è la richiesta contenuta nella lettera inviata all'assessore regionale alla sanità Mario Nietu dal sindacato delle professioni infermieristiche L'organizzazione sindacale ha espresso il proprio dissenso per la gestione della pandemia in tutta la provincia d'Oristano da parte di una dirigenza regionale e locale che al netto di proclami e risibili dichiarazioni e rassicurazioni ha mostrato la propria totale incapacità di dare risposte attendibili e adeguate Nella missiva viene contestata la mancata adozione di tutta una serie di misure che già dai mesi estivi avrebbero permesso di gestire al meglio la seconda ondata dell'epidemia mentre invece si è lasciato che la situazione andasse completamente fuori controllo con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti Bocciato anche il presunto trasloco dei pazienti tra i due ospedali di Bosa e di Oristano Pare quasi, si legge nella lettera, che i problemi si autorisolvano semplicemente nello spostarli in altro spazio predisponendo tra l'altro una calendarizzazione difficilmente applicabile A Natale partono i test di massa sul coronavirus Partirà a Natale lo screening di massa deciso dalla Regione per assicurare un monitoraggio dettagliato dell'andamento della pandemia e innalzare il livello di sicurezza per tutta la popolazione Lo ha reso noto il Presidente Cristian Solinas Tutta la struttura sanitaria regionale sarà mobilitata Aggiunto Solinas, se ci avvarremo della cooperazione della protezione civile regionale della Croce Rossa e della sanità militare con la quale è già avviata una interlocuzione finalizzata la piena collaborazione Mentre sono in arrivo i test acquistati emerge il piano operativo con il quale la campagna di test sarà effettuata partendo dalle aree considerate a maggiore incidenza della malattia per poi estendere lo screening a tutta l'isola Il protocollo prevede che il test venga ripetuto dopo 7-8 giorni Coloro che risulteranno positivi saranno sottoposti a tampone molecolare Voltiamo pagina Dopo le piogge arriva puntuale il divieto di utilizzo dell'acqua in alcuni comuni dell'Oristanese Vediamo il servizio Il 30 dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande Per richiedere il bonus sociale idrico integrativo Un rimborso tarifario che può essere richiesto dai nuclei familiari che siano residenti nel comune d'Oristano Abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato gestito da Banoa Versino in condizioni socio-economiche disagiate Il comune d'Oristano ha ricevuto dal Legas oltre 40.000 euro per l'attuazione della misura L'importo del bonus integrativo spettante a ciascun beneficiario ammonta 25 euro per ogni componente del nucleo familiare Se l'isè è inferiore a 9.000 euro 20 euro per ogni componente del nucleo familiare se l'isè supera i 9.000 euro Le domande possono essere presentate a mano presso l'ufficio protocollo del comune E' possibile compilare il modulo di adesione anche online sul portale del Legas Intanto è stata emanata dalla protezione civile regionale Una nuova allerta a metodo di criticità ordinaria a codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico Dalle 14 di giovedì 10 dicembre e sino alle ore 7 di venerdì 11 dicembre Sono previste precipitazioni a carattere temporalesche sulle zone del Campidano, Iglesiente, Montevecchio, Pischinappio, Tirso e Logudoro Voltiamo pagina Consiglio Comune di Oristano, una continua metamorfosi Sentiamo l'analisi di Paolo De Sogus La sensazione è che nel Consiglio Comunale di Oristano Il cui assetto è stato traumatizzato dal cambio di partito da parte del sindaco e di un gruppo di consiglieri Che hanno lasciato Forza Italia dal quale si erano autosospesi Ora approdati sulle sponde di Fratelli d'Italia Spostamento che ha prodotto una metamorfosi Che aveva già avuto precedenti contaminazioni con quelli che vengono definiti Cambi di casacca, ovvero i camaleonti della politica locale Con casi tipici sui quali si tace Fatto sta che buona parte della maggioranza E al momento con targa Fratelli d'Italia E gli altri a inseguire e a chiedere Un più o meno riequilibrio delle presenze in giunta Ha iniziato Mauro Solinas Che ad Oristano ha ereditato la leadership di Forza Paris Il quale, tra una cerimonia religiosa e l'altra Ha denunciato l'eccessivo scostamento a destra dell'esecutivo Con l'esigenza di una rivisitazione dello scacchiere Che compone la giunta comunale Una denuncia anche dei sardisti Che sono i più penalizzati dal nuovo quadro politico La cui modifica era iniziata Col togliere l'incarico di assessore all'urbanistico Al loro rappresentante in giunta L'ingegner Gianfranco Sedda Tempi, impegni e cartelli indicatori sbiaditi dal tempo Chiaro segnale della decadenza della provincia di Oristano Sentiamo Paolo De Zogus All'ingresso dell'abitato di Santa Giusta a fronte Stagno Sopravvivono due cartelli Uno inclinato e di benvenuto nella provincia di Oristano L'altro sbiadito Indicava le principali spiagge dell'Oristanese Altri tempi Quando la provincia di Oristano esisteva Anche dal punto di vista politico Ed aveva anche un assessorato al turismo Che promuoveva il territorio Tempi e impegni ormai sbiaditi nel tempo Così come il cartello Con l'elenco dei nomi Delle principali località marine dell'Oristanese Sono il senso e il segnale Dell'ormai consolidato decadimento dell'ente Che si è accentuato Con la conclusione del governo politico di Via Carboni Avvenuto nel maggio del 2015 Oggi due palazzi che si ergono a conclusione della Via Mattei Sono trasformati in presidi privi di vita e progettualità Causa l'insufficienza e disponibilità Di risorse finanziarie Prima di tutto All'interno degli edifici semivuoti Stanziano 120 dipendenti Privi di motivazioni Con la situazione aggravata dalla pandemia Che impone alla struttura Lo smart working L'improbabile Lavoro a distanza Centro servizi Losa Nessuno lo vuole per ora Vediamo Forse un bando A carattere internazionale A pandemia superata Potrà suscitare l'interesse Per qualche colosso mondiale Della distribuzione alimentare Interessato a concorrere Per rilevare il centro servizi Losa Struttura espositiva E centro per la convennistica Posta nella Sardegna centrale Attraversata dalla 131 Quindi dal principale Asse viario dell'isola E poco distanti Dallo snodo ferroviario Di Abbasanta E del percorso Della 131 bis Verso Nuoro e Olbia Posizione strategica Quindi Che in tempi di espansione economica Forse avrebbe trovato risposte A livello regionale e nazionale Per una gestione Che prefigura un investimento iniziale Di sistemazione esterna delle aree E dei locali Che tutto sommato Si sono conservati In ottimo stato Al secondo bando pubblico Del comune di Abbasanta Nessuno ha mostrato interesse Per il neo sindaco Patrizia Carta Trattasi della prima Vistosa grana da risolvere In relazione al fatto Che ora Per l'amministrazione L'impianto Rappresenta un costo Non era così Quando il centro Venne progettato All'interno dei piani Integrati d'area Dell'aggiunta Palomba Con assessore Alla programmazione Antonio Sasso Allora si ipotizzava Uno sviluppo Di quell'area geografica Dove trovarono Sostegno finanziario Anche altre iniziative Problemi che si ripropongono In condizioni Profondamente mutate Con il sindaco Patrizia Carta Che ben conosce Gli antefatti Voltiamo pagina Il 30 dicembre Scadono i termini Per la presentazione Delle domande Per il bonus Sociale Idrico Integrativo Vediamo Il 30 dicembre Scadono i termini Per la presentazione Delle domande Per richiedere Il bonus Sociale Idrico Integrativo Un rimborso Tarifario Che può essere richiesto Dai nuclei familiari Che siano residenti Nel comune di Oristano Abbiano un contratto Di fornitura Del servizio idrico Integrato Gestito da Banoa Versino in condizioni Socioeconomiche Disagiate Il comune di Oristano Ha ricevuto Dal Legas Oltre 40.000 euro Per l'attuazione Della misura L'importo Del bonus Integrativo Spettante A ciascun beneficiario Ammonta 25 euro Per ogni componente Del nucleo familiare Selisè È inferiore A 9.000 euro 20 euro Per ogni componente Del nucleo familiare Selisè Supera I 9.000 euro Le domande Possono essere Presentate a mano Presso l'ufficio Protocollo Del comune È possibile compilare Il modulo di adesione Anche online Sul portale Del Legas L'evoluzione Delle tecnologie innovative Ma non solo Ha portato Ad una vera E propria Rivoluzione digitale In grado Di aiutare L'uomo Nei suoi lavori Quotidiani Sentiamo Paolo De Sogus Se vuoi vivere Abitudini Per esempio Per esempio In diverse banche L'accesso È regolato Per appuntamento Dal medico Di famiglia Deve richiedere Le prescrizioni Via mail E attendere Che siano inviate Al cellulare In gran parte Degli uffici pubblici Si è irricevibili E occorre Utilizzare il telefono Al quale Nessuno risponde Essendo La maggioranza Degli impiegati A casa In smart working Situazioni Che sono La punta avanzata Di un iceberg Senza contare La confusione E il delirio Che diviene Incontrollato Con milioni Di persone Che inseguono I pagamenti Digitali Attraverso La formula Del cashback Una operazione Che si presenta Quanto mai Complessa Inventata dal governo Per incentivare I consumi Attraverso I pagamenti Digitali Prevedendo Un rimborso Dopo che ne sono stati Effettuati diversi E per una cifra Che farebbe Scattare Un rimborso Ma la novità Al momento Appare Come un inestricabile Circolo Vizioso E questa Era l'ultima notizia Del nostro appuntamento Con l'informazione Ora vi lascio Alle notizie nazionali Buon proseguimento Con i nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti